Certo quando si arriva in comunità in qualche modo si è un passo già in avanti perché vuol dire che quantomeno la persona, la madre nel caso specifico di quello di cui stiamo parlando oggi si è resa conto che c'è un problema di tossicodipendenza, c'è un problema di rischio vita per lei e anche per il bambino e quindi si è già un passo in avanti. Poi se c'è un periodo di permanenza nella comunità, darà i suoi frutti, quello poi si vedrà ci sono casi diversissimi tra di loro. Il problema è che alcune persone non ci sono ancora arrivate, non ci arrivano a questo percorso o perché non si rendono conto oppure perché... Abbandonano il percorso, vede la prima mamma ha abbandonato il percorso, ha lasciato lì la figlia e poi ritorna per ritrovarla, ma quello era un percorso da farsi madre e figlia e quindi giustamente il tribunale ha proceduto negli interessi della bambina. Cioè molte persone non ce la fanno a reggere il percorso e quindi abbandonano la comunità e il bambino nella comunità e quindi in questo caso è giustissimo che il tribunale provveda nell'esclusivo interesse del bambino. Poi naturalmente la mamma magari ha altri figli, quindi sarà seguita dai servizi del territorio, però il tribunale per i minorenni ha come obiettivo l'interesse del bambino che è quello di avere la sua mamma naturale prima di ogni altra cosa ma se la sua mamma naturale non ha avuto il senso di responsabilità di proseguire un percorso noi dobbiamo pensare al bambino. Infatti la storia che abbiamo raccontato attraverso il filmato è che la madre... cioè la separazione temporanea della sua bambina è stato proprio stimolo per ritornare in comunità e quindi alla fine ci ha guadagnato lei e ci guadagnerà anche il bambino nel senso che alla fine del percorso finalmente ritorneranno insieme. Se le viene restituita la bambina, non lo so, non mi è sembrato che fosse questo l'esito. No, l'esito non c'è ancora. Non c'è ancora, non c'è ancora perché sta volendo il percorso. Esatto, io credo che bisogna stare molto attenti a mettersi già rispetto all'esito. Allora, se è un percorso è un percorso, è un percorso di crescita. Come dicevo prima, il percorso deve prevedere la non solitudine, il rischio è grandissimo perché appunto se parliamo delle situazioni drammatiche quando ci si sente soli e quando stiamo parlando di donne tossicodipendenti stiamo parlando di persone con una psicopatologia perché di questo si tratta. Allora, quella persona se davvero intanto ha difficoltà a trovare un ambiente solidale perché appunto in genere è esattamente il contrario, cioè ci si unisce a chi sta esattamente come loro quindi è una situazione di difficoltà. Quello che bisogna fare appunto la rete deve tirar fuori questa persona dalla solitudine dopodiché può darsi che la scelta sia quella dell'allontanamento del minore appunto cioè non bisogna mettersi già di fronte ad una scelta, ad un fine già preordinato può darsi che quella donna se riesce a lavorare magari fa contatto con la sua incapacità di prendersi cura di un bambino può succedere, possa anzi essere sollevata da una scelta che sembra essere dura, terribile all'inizio ma che poi invece a me è capitato in altre situazioni molte volte che nel momento in cui il tribunale dei veri minorenni fa una scelta drastica cioè l'allontanamento e quindi lo stato di abbandono per quel bambino poi sono vite che riprendono nel senso che per quella donna diventa togliersi una responsabilità che era veramente troppo grossa, troppo grave e troppo difficile per potersene far carico da sola. Sono spesso persone senza famiglia, senza situazioni sociali, che non hanno avuto un modello non sanno proprio come regolare, quindi si sgravano di un grosso peso poi tornano, a me è capitato, tornano per sapere avete sistemato, sta bene, signora sta benissimo ma va bene Allora andiamo a Milano dal professor Rivera, è tutto questo professore che effetto ha sul bambino perché per la mamma può essere un percorso fatto di questi elementi quindi c'è un peso da cui vengo alleggerita, posso ristabiliare un contatto diverso con me e con la mia vita per il bambino dall'altra parte? La mia mamma c'è, non c'è più, torna? I bambini hanno bisogno prima di tutto di una figura costante costante dal punto di vista della disponibilità psicologica il problema di un genitore o due genitori addirittura tossicodipendenti è l'assoluta indisponibilità psicologica si tratta, se possiamo immaginare in una maniera diversa la tossicodipendenza rappresenta un'incapacità di essere disponibili alla propria psicologia al proprio percorso e alle proprie vicende interiori conseguentemente non si è disponibili per un figlio che rappresenta una cosa difficile, un noto psicanalista americano dice quando dovessimo mettere alla prova una persona sulla capacità di prendersi cura di un bambino dovremmo prima fargli prendere cura di una pianta poi di un pesciolino rosso e poi di un cane e alla fine se in tutti questi casi ha avuto successo potremmo pensare ad avere un bambino invece esiste, esistono delle formule che sono agghiaccianti il bambino terapeutico, dietro il quale già si immaginano delle soluzioni un bambino non è, non può e non potrà mai essere terapeutico perché un bambino è una parte molto debole nella specie umana il bambino ha bisogno di molti, molti anni di disponibilità psicologica vorrei fare un inciso dai tempi della celebre sindrome del bambino malmenato tutti coloro i quali erano incaricati di vedere e di valutare certe lesioni, certe ferite, certe contusioni che presentavano i bambini ci hanno impiegato molti anni ad arrivare a questa conclusione grazie alle incoerenze che trovavano i radiologi rispetto al racconto che veniva fatto su certe ferite finalmente si sono scoperte un mare di violenze sommerse le donne tossicodipendenti non partoriscono per la strada partoriscono negli ospedali però io ho notato che c'è una grande reticenza da parte dei medici a fare un'anamnesi tossicologica conseguentemente molto spesso in un momento in cui si potrebbe fare un controllo c'è questa reticenza come se un medico chiedendo se una persona fa uso di sostanze stupefacenti o chiedesse un esame tossicologico violasse qualche cosa di molto importante questo è un punto che culturalmente dovrebbe diventare un assunto di base e a quel punto come si dovrebbe intervenire? ma io credo prima di tutto dovremmo individuare lei tenga conto che se non c'è questa abitudine può accadere come spesso accade che una madre partorisca un figlio in condizione di astinenza nella sorpresa di chi lo fa nascere conseguentemente noi dobbiamo tenere conto che l'anamnesi tossicologica è il primo punto nel quale noi dovremmo diventare fra virgolette invadenti insieme ad altre invadenze delle quali dovremmo però avere gli strumenti legali cioè in una situazione condominiale già è molto difficile poter intervenire su un condomino che fa una violenza magari rumorosa su tutto il palazzo figuriamoci se è possibile varcare la soglia di casa ti dicono subito che non sono fatti tuoi nella nostra cultura il bambino è soprattutto della famiglia invece dovremmo dire che il bambino appartiene alla comunità perché nella comunità che si svilupperà crescerà quindi dobbiamo tenere conto che i primi due anni del bambino sono quelli più pericolosi da tutti i punti di vista quelli della psicopatologia ma soprattutto dell'isolamento quando comincia a entrare il bambino nelle varie agenzie formative la scuola materna e quindi le scuole elementari comincia già a essere osservato prima fa parte di un iceberg sommerso di cui non si può sapere nulla comunque gli ospedali segnalano i bambini nati da tossicodipendenti in crisi d'astinenza e anche diciamo le segnalano questo sul Lazio ma anche sulla Campania ci sono le segnalazioni non è necessaria una cultura forte in questo senso sì sì certo bisogna rafforzarla ricordiamo che siamo partiti di un caso che è quello del piccolo Alessandro che insomma è ucciso in un contesto familiare molto molto violento dove c'era anche accompagnato da tanta droga ecco ma sul discorso di intervenire sempre per evitare io volevo chiedere alla dottoressa Monaldi voi come polizia di Stato il professor Rivera diceva varcare la soglia di casa è pressoché impossibile ma ci sono situazioni, casi in cui voi potete non solo varcare quella soglia ma non so togliere temporaneamente in attesa di indagini i bambini quando vi trovate di fronte a una situazione che può far pensare a quella del povero Alessandro beh sì sicuramente ecco sono attività, sono indagini molto delicate dove appunto gli attori come abbiamo sentito e sono comunque tanti in determinate situazioni quando l'istituzione si rende conto che il minore versa in un gravissimo stato di degrado piuttosto che non c'è proprio la possibilità di poterlo lasciare alla madre o al padre o da chi comunque un parente che se ne possa prendere cura possiamo in situazioni di emergenza poter decidere come forze di polizia di poter allontanare il minore e con i servizi... intanto c'è stata una grave sofferenza cosa? cosa?